Elisabetta Ternullo, 37 passi dentro, cos'è? 37 passi dentro è un libro che descrive 37 poesie e 37 fotografie che vestono queste poesie Perché hai deciso di scrivere questo libro? Ho deciso di scrivere perché mio papà, che è il mio primo fan, mi ha indotto a cercare una casa editrice, a pubblicare e quindi questo libro è dedicato a lui Quanto c'è di te all'interno del libro? C'è tutto di me, è un libro autobiografico che parla proprio del mio percorso, dei miei 37 anni per arrivare a prendere la matita di nuovo e a riscrivere perché io un tempo scrivevo e poi ho smesso e ho ripreso a 37 anni Ci sono le fotografie che parlano del mio fuori, che vestono il mio dentro, totalmente autobiografico, c'è tutto di me Dove trovare questo libro? In librerie ad Augusta, libreria Mondadori, libreria letteraria e in piazza Risorgimento alla Scolastica Perché dovremmo comprare il tuo libro? Perché il mio libro è interessantissimo, è diverso, è un libro giovane, è innovativo, anche se vuoi un po' spiritoso, è artistico, è una piccola opera d'arte Che importanza dai alla cultura nella nostra società? Credo che la cultura potrebbe salvare questa società La cultura e l'arte, l'educazione all'arte e l'educazione alla cultura sono fondamentali Un saluto a chi ci guarda Ciao 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 Ciao